Aveva appena ricevuto 70 euro da un cliente, un cinquantenne della zona, come pagamento del rapporto sessuale che l'uomo aveva consumato con due prostitute quando i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco l'hanno bloccata. Una cinquantotenne di origine cinese che vive nella cittadina castellana è stata arrestata per sfruttamento della prostituzione aggravato. Dalle indagini è emerso che da luglio la donna gestiva un appartamento del centro di Castelfranco dove si prostituivano due sue connazionali di 29 e 31 anni. La casa è stata posta sotto sequestro.